Trovate due pistole abbandonate. A Castellamonte i militari della locale stazione hanno trovato abbandonata in un terreno una pistola Smith & Wesson risultata a provento di furto consumato in una privata abitazione alcuni giorni fa. Ritrovata un'arma anche a San Carlo Canavese, in piena campagna, è stato trovato un'altra pistola, una Beretta 765 con relativo munzionamento, che non risulta censita in banca dati. Sono in corso le indagini per individuarne la provenienza. Entrambe le armi saranno inviate al RIS di Parma per verificare il loro eventuale utilizzo in episodi delittuosi. Grazie. Grazie.